Ehi, il famoso rapper italiano Fedez è sempre più vicino al mondo dell'arte, arrivando addirittura ad ispirare anche il famoso scultore Fabio Viale, che l'ha reso protagonista con l'opera lorica in mostra ai musei reali di Torino. Lo scultore, conosciuto per la sua ricerca che vede la superficie di marmo di grandi sculture classiche diventare pelle su cui incidere dei tatuaggi, questa volta è stato ispirato proprio da Fedez. Dopo aver effettuato una scansione tridimensionale del suo torso, ha creato un'opera ispirata alle antiche armature indossabili. Il lavoro fa parte di una serie di sculture esposte dal 14 ottobre al 9 gennaio 2022 nelle sale dei musei reali di Torino e in piazzetta reale, in occasione della mostra personale di Fabio Viale intitolata In Between, a cura di Filippo Masino e Roberto Mastroianni, e che Fedez diventi una bella scultura d'arte da collezionare. Grazie a tutti!